In presenza di una sfida così grande, che coinvolge la salute, è necessario che prevalga lo spirito di collaborazione. Dobbiamo avere maggior cura dei nostri territori, da quelli montani a quelli delle piccole isole, dove i nostri concittadini affrontano disagi maggiori. Occorre combattere contro speculazioni e sfruttamento incontrollato delle risorse naturali. Grazie.